Tra poco gli spettatori di tutto il mondo saranno catapultati nel divertente universo dei puffi per il loro primo viaggio in 3D. Una commedia che vedrà i nostri amici blu in azione nel bel mezzo di Central Park a New York per tornare a casa nel loro villaggio e per sfuggire al loro atavico nemico, i puffi, al cinema in 3D. Cari amici di cinema, grazie per essere stati in nostra compagnia. Antonella vi aspetta ancora qui per aggiornarvi sui prossimi film da vedere al cinema. The fundamental things apply as time goes by.